Bene, abbiamo concluso da pochi giorni la stagione teatrale Sipari Aperto all'Auditorium di Santa Maria Ingradi, una stagione che ha presentato nove spettacoli di cui sei hanno registrato il tutto esaurito, per cui una stagione con un bilancio estremamente positivo, sia da parte della presenza del pubblico, e del gradimento del pubblico, sia anche per la critica ovviamente teatrale, che è stata estremamente a favore e questo ci fa piacere e ci conforta per quella che sarà la prossima programmazione 2012-2013. Abbiamo realizzato nove spettacoli, un coinvolgimento di circa 95 tra attori e tecnici coinvolti in questa stagione teatrale, e 45 persone tra attori, staff tecnico, personale che si è occupato della comunicazione e pubblicità che sono stati direttamente coinvolti nella città di Viterbo e provincia, per cui questo significa che la cultura crea nel proprio piccolo anche un indotto economico importante per il territorio e dunque sono delle cifre che sono confortevoli ma soprattutto ci danno soddisfazione. La prossima stagione credo che sarà presentata entro giugno, una stagione teatrale che si può ipotizzare che inizierà a novembre del 2012 per concludersi ad aprile del 2013, una stagione che chiaramente avrà delle gradevoli sorprese sia da parte nostra e soprattutto da parte del gradimento del pubblico che fino adesso ci è stato vicino e ci ha aiutato ad andare avanti.